Noi intendiamo iniziare da subito perché fra poco tutti andranno all'albergo per prepararsi per la magnifica serata organizzata dall'associazione che ringraziamo per averci invitato. Il tema che tratteremo è un tema che molto probabilmente vent'anni fa non avrebbe attratto molto interesse, le restrizioni verticali erano un tema sul quale molte soluzioni erano state offerte dal nuovo regolamento della Commissione europea e dalle nuove guidelines che introducevano un approccio più economico, il primo campo dove l'approccio economico diventava concreto ed renderà questo approccio che si focalizzava sulla quota di mercato, che limitava la restrizione per oggetto, la blacklist e che quindi cercava di risolvere molti problemi ex ante attraverso un regolamento molto più flessibile rispetto ai passati. invece adesso vediamo che le restrizioni verticali sono di nuovo all'onore comunque di attualità con sanzioni recentemente incominate dalla Commissione europea per quasi 200 milioni di euro e un'attenzione delle imprese a queste questioni. Come questo è accaduto è perché è arrivata la digitalizzazione, la digitalizzazione sembra aver apportato un nuovo focus sulle restrizioni verticali ed è quasi sorprendente, un mondo in cui la digitalizzazione dovrebbe portare ad un mondo in cui le restrizioni o le barriere all'ingresso sono ancora minore, le restrizioni verticali potrebbero essere meno rilevanti. Invece la Commissione europea e molte autorità della concorrenza, lo vedremo insieme, la pensano diversamente e quindi ho insieme a me un partero, un gruppo di amici anche direi che ci potranno convogliare attraverso questi nuovi sviluppi e spero anche portare alcune risposte concrete alle vostre domande. Cominciando con la persona alla mia sinistra, Antonio Butà dell'autorità Garante, un economista che tirerà forse le somme della nostra discussione, abbiamo Giulia Marioni che è del gruppo GES e che quindi ci darà un'esperienza concreta dell'applicazione delle regole di concorrenza a restrizione verticale, abbiamo Federico, scusami non il tuo nome di famiglia, ma che ci darà una visione della giurisprudenza Cotì applicata concretamente dalle corti italiane e poi alla mia destra due vecchi amici, Matteo Padellaro dello studio Gianni Origoni e Vito Ricchio dello studio Leganz.